ciao a tutti sono sissi sorpresa benvenuti in questo nuovo video lo so che nello scorso vlog avevo detto che non ci sarebbero più stati video prima dei vlog dal mare ma sono andata da action a fare shopping e potrei mai tenervi all'oscuro del mio shopping da action assolutamente no in realtà sono andata per comprare due padelle che erano in offerta le padelle non c'erano e sono uscita dal negozio con un sacchettone pieno di roba che non dovevo comprare quindi adesso vediamo tutto subito insieme però prima di cominciare come al solito propaganda canale vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto così da aiutarmi a crescere adesso siamo arrivati a 3000 iscritti dobbiamo arrivare a 5000 ci siamo posti questo obiettivo qua grande quindi iscrivetevi per sostenermi lasciatemi un like di supporto e sentiamoci qua sotto nei commenti dunque fatemi sapere se avete un action vicino e anche voi e anche a voi vi succede questa cosa andate per comprare delle cose che magari non si trovano e uscite non si può uscire a mani vuote insomma uscite con sacchetti pieni di roba io ci stavo scherzando con due signore alla cassa ho trovato due signore alla cassa che ci siamo messi a parlare e ho detto sono venuta per comprare due padelle che non ci sono tra erano finite raga cioè le hanno messe in sconto il mercoledì io sono andata il sabato pomeriggio erano finite mi hanno detto le abbiamo riordinate forse arrivano lunedì quindi se ci sono delle clip adesso dalla sissi del futuro vuol dire che ho trovato le padelle sono delle padelle in ceramica cioè rivestite in ceramica e le vorrei per la mia cucina però se ci sono clip adesso vuol dire che sono tornata e le ho trovate se invece non ci sono clip dalla sissi del futuro incominciamo con il nostro haul di action allora incominciamo con questi due prodotti libri che io sono eccitata a riguardo chi mi segue lo sa sapete che io faccio la collezione sono usciti i nuovi libri da colorare non sono quelli con la copertina rigida quelli che escono ogni anno ma sono usciti questi due libri fantastici che tra l'altro meno male che sono andata perché io controllo tutte le settimane il volantino delle uscite non c'erano sul volantino delle uscite questi libretti me li sono persi e quindi meno male che sono passata per queste padelle padelle del mistero meno male che sono passata per queste padelle e ho trovato anche questi libri sono sempre di craft sensation ok sono libri e sono belli grossi non so se c'è scritto il formato comunque sono sono grandi ok rispetto a libri normali quindi sono quadrati e grossi e contengono 40 design di mandala li vedete tutti qua dietro praticamente questi sono mandala per adulti da colorare voi sapete che guardate questo con i coricini wow voi sapete che io impazzisco per i mandala il primo è bellissimo lo faccio vedere anche all'incontrario tanto non fa niente io impazzisco per i mandala e sapete che colleziono tutti questi libri qua per colorare e quindi guardate che bello questo wow e quindi ogni pagina ha il suo mandala la qualità della delle pagine è ottima perché sono belle spesse e oltre ad essere spesse dietro sul retro non hanno nulla quindi si può colorare sia a pastello che a pennarello e secondo me anche ad acquarello su queste pagine se mettete comunque una protezione di dietro ok perché penso che il pennarello non riesca a trapassare da questo foglio a questo quindi non credo che il pennarello riesca a sporcare però se magari colorate con i pennarelli acquarellabili magari bagna quindi io consiglio sempre se non fate se non colorate a pastello di mettere comunque un altro foglio qua per sicurezza comunque dietro non c'è nulla dietro le pagine quindi si può colorare bene o male con qualsiasi cosa e le pagine sono veramente cioè sono dei cartoncini praticamente sentite qualità delle pagine veramente ottima non hanno la copertina rigida però hanno questa copertina qua che si può tenere il segno per dire io arrivo qua a colorare oppure smetto perché ho da fare altre robe metto dentro il segno della pagina ok la letta e così la prossima volta che devo andare avanti con il mio disegno ho già la pagina segnata senza usare segnalibri quindi al segna al segna pagina integrato e quindi c'era questo in questo modello qui che questi colori mi fanno veramente impazzire sono bellissimi sono più o meno i colori che uso sempre io il viola l'azzurro così e poi c'era anche questo che anche questo è un'altra variante molto 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 bello i design li trovate sempre qua dietro ok vediamo se riesco a vedere un po di differenze sono sicuramente differenti sono differenti forse questo qui è un pochino più intricato questo qui forse è un pochino più intricato sono anche disegni a pagina intera ok belli belli veramente guardate questo questo abbastanza intricato wow e quindi io non vedo l'ora questo inverno adesso poi quando torno dal mare guardate questo della prima pagina wow questo è molto indiano non vedo l'ora appunto quando torno dal mare di metterci le mani sopra io questo inverno non avrò più tempo di fare nulla perché ho comprato anche il kinder per leggere visto che ultimamente sto leggendo ho finito la saga quello del della corte sapete se per chi non mi segue ancora e non lo sa stavo leggendo i libri della corte la corte di rose di spine è il primo libro poi ci sono tutti gli altri la corte di vanno avanti sono tipo cinque libri corte di rose di spine la corte di nebbia e furia eccetera ok dell'autrice sarah j mas che partono partono normali questi libri poi diventano sempre più hot sempre più spinti man mano che vanno avanti ho finito di leggerli e non so più cosa devo fare della mia vita quindi la mia amica sara vendeva il suo kindle perché ha fatto l'upgrade e l'ho comprato mi ha messo su un sacco di libri da leggere ho materiale per leggere per i prossimi dieci anni e in più continuano continuo a comprare e a regalarmi libri da colorare quindi io questo inverno tra leggere e colorare non avrò tempo neanche di trovarmi un fidanzato nuovo io ve lo dico perché non ho tempo mi diranno sì sì ti va di uscire no non ho tempo devo leggere e colorare benissimo poi andiamo avanti questo acquisto non so perché l'ho comprato l'ho comprato per un potenziale futuro anche action fa questo effetto perché non solo le cose che vi servono nell'immediato ma comprate anche robe che potrebbero servirvi in futuro che cos'è questa cartelletta una cartelletta portadocumenti ho bisogno nell'immediato di una cartelletta portadocumenti per mettere dei documenti no perché non ho dei documenti da metterci dentro però ho detto prima o poi mi verrà utile questa cartelletta era in sconto a tipo 70 centesimi mi pare e l'ho presa per il futuro perché non si sa mai che prima o poi ci dovrò mettere dentro tipo delle fatture dei documenti non lo so e quindi guardate che carina c'erano anche diversi colori io ovviamente l'ho presa così leopardata cartellina leopardata portadocumenti sempre utile ve l'ho detto action fa anche questo effetto ce l'avete bisogno nell'immediato no però può sempre servire quindi compriamo poi andiamo avanti e prima di passare alle cose da mangiare abbiamo comprato tanti snackini e cose da mangiare per dei prossimi video sono andata oltre che per le padelle in realtà anche a comprare sempre l'olio di mandorle che uso per il corpo per appunto idratarmi mi sto oliando dopo la doccia praticamente consistentemente negli ultimi mesi e ho già visto un bel miglioramento nella mia pelle nella lucentezza nella morbidezza eccetera e quindi siccome faccio fuori l'olio di mandorle perché tutte le volte che mi faccio la doccia mi olio anche adesso che fa caldo ok infatti continuo a sudare però la pelle è idratata siccome uso olio a go go questo qui da action è praticamente costa tipo 2 euro e qualcosa e quindi ho detto prendiamolo da action sono 150 ml io lo travaso io lo travaso da questa dalla sua confezione lo metto in una confezione con la pompetta ok in doccia perché mi viene più comodo spompettare dopo la doccia piuttosto che usare questa questa confezione mi sto trovando bene con le cose a pompetta ho anche il bagno schiuma il doccia schiuma nel barattolo a pompetta con l'erogatore a pompetta e vorrei travasare dentro lì usarlo sempre perché mi trovo veramente molto molto bene con piuttosto che sollevare flaconi con le mani bagnate insaponate che cadono vanno in giro dappertutto invece quello lì a pompetta faccio così è veramente molto molto comodo quindi quindi lo metto nel mio contenitore a pompetta ci metto dentro una ventina di gocce di olio essenziale non fate come me prima di metterci l'olio essenziale andate a cercare le informazioni perché ci ho messo l'ultima volta ci ho messo l'olio essenziale di bergamotto che è buonissimo però è fotosensibilizzante quindi con il sole d'estate non va bene lo sto usando lo stesso sì perché ormai il danno è fatto però la prossima volta non metterò un olio essenziale fotosensibilizzante nell'olio di mandorle quindi penso che metterò quello vorrei mettere quello il gelsomino ma non ce l'ho dovrei comprarlo però in casa ho quello al frankincense quindi all'incenso che è uno degli oli essenziali che innalza di più le vibrazioni ok le nostre vibrazioni del corpo e abbiamo bisogno di innalzare le vibrazioni quindi penso che finito quello lì con l'olio di bergamotto che l'ho quasi finito pulirò bene il contenitore travaserò questo e olio essenziale di incenso poi magari la prossima volta man mano che cambio cambio anche olio essenziale vorrei appunto quello del gelsomino però niente quindi l'olio essenziale di incenso e ancora di più l'olio essenziale di rosa ma è molto difficile trovarlo ed è molto costoso innalzano gli oli essenziali che innalzano di più le nostre vibrazioni del corpo e quando le nostre vibrazioni sono alte noi stiamo sempre meglio quindi vai di olio di mandorle e olio essenziale di incenso questo olio di mandorle è dentro nel contenitore di plastica si potrebbe fare di meglio? sì allora l'olio di mandorle nel contenitore di plastica può anche andar bene l'olio di ricino se usate l'olio di ricino assolutamente no nel contenitore di plastica ma l'olio di ricino per qualsiasi cosa, cioè ciglia, sopracciglia, idratazione, quello che volete l'olio di ricino attenzione non nel contenitore di plastica solo in contenitore di vetro quindi gli oli sarebbe meglio in contenitore di vetro l'olio di ricino soprattutto gli altri oli sarebbe meglio noi ce lo facciamo andare bene così perché costa poco e ne consumiamo una valanga quindi va bene così però vi dico questa informazione se usate l'olio di ricino mi raccomando assolutamente contenitore di vetro perché c'è anche da action l'olio di ricino che è quello nel contenitore nella scatolina verde c'è anche l'olio di jojoba che io uso per il viso l'olio di ricino assolutamente ed è sempre nel contenitore di plastica perché ho controllato l'olio di ricino non compratelo da action perché ha il contenitore di plastica poi andiamo avanti e ho preso due prodotti per la nuova macchina del camera dead per la jeep perché adesso è entrata in famiglia la jeep non ci siamo più solo io, mia mamma e Raulino c'è anche la jeep e quindi ho preso delle cose per pulirla per tenerla bene e pulirla ci sono un sacco di cose per il lavaggio dell'auto io non sono una grande esperta ho preso queste salviettine giusto per provarle questa con scritto glass wipes sono salviettini intanto biodegradabili quindi 100% plastic free e ci piace questa cosa queste appunto glass ovviamente sono per pulire i vetri ok salviette per vetri mentre queste qui protectant eye gloss sono per il cruscotto, gli interni eccetera queste qua eye gloss lucidano sì salviette protettive finitura lucida ci sono anche quelle mi pare con la scritta viola che hanno una finitura matte ok però io l'ho presa così con la finitura lucida sicuramente per la mia 500 che dentro ha degli interni in plastica lucida queste vanno benissimo vediamo, le proviamo se possono andare bene per la jeep se no me le terrò io per la mia 500 perché è sempre l'ercia ed è ora che comincio a pulirla come si deve poi andiamo avanti e andiamo avanti raga ci sono già le cose dell'autunno io non sono ancora andata al mare e già ci sono le cose di halloween dell'autunno tra un po' cominceranno a mettere fuori anche le cose di natale e io non ho ancora fatto la mia ultima vacanza non so come sentirmi a riguardo però ho preso due decorazioni d'autunno una per me e una per il mio nipotino ovviamente questa qui è per mio nipote il figlio della mia amica il suo appunto animale di nascita tema della nascita non so come si chiami animale tema di nascita non lo so comunque la mamma ha scelto il riccio come animale per il bambino e quindi ho trovato questo ricetto sono fatti in lana di feltro sono veramente molto molto belli e fatti molto molto bene anche questi vengono sui 2 euro quindi c'è una roba irrisoria ok e infatti qua dice attenzione questo non è un giocattolo solo a scopo decorativo tenere fuori dalla portata dei bambini ottimo però questo bambino ha 5 mesi quindi non glielo daremo da giocare che regali che faccio a zia si vede che non ha esperienze con i bambini comunque glielo può mettere in cameretta tipo come decorazione ovviamente è veramente molto molto carino è fatto in lana di feltro e bellissimo cioè questo è non metteteglielo in bocca è solo per decorazione se mai vedrai questo video prima o poi amore mio guarda cosa ti ha comprato la zia questo bel ricetto mentre per me ok perché sono una bimba anche io ho preso questo bellissimo scogliettolino sempre con in mano il funghetto ci sono anche tipo con in mano la nocciolina sono di vari colori sono di vari colori con in mano varie cose io ho scelto questo qui col funghetto in mano perché è veramente molto molto carino anche se è un fungo velenoso mi raccomando se vedete un fungo così nel bosco non mangiatelo perché è velenoso ok e quindi stavo pensando appunto visto che è una decorazione d'autunno di metterla o di metterlo adesso quando porteremo dentro le piante per l'autunno di metterlo appunto vicino ai vasi delle piante e tenerlo come decorazione o se no appunto io ho un ho a parte l'orchidea qui in cucina che potrei metterlo anche lì vicino l'orchidea però uno scoiattolo di fianco l'orchidea non è che sia il massimo se no ho anche sul balcone qui della cucina che è un balcone che praticamente non si bagna mai perché è a sud è raro che piove verso questo balcone potrei metterlo vicino alle mie piante grasse sul balcone però ho paura che fuori si rovini un po' quindi forse lo userò per le piante da interno comunque benvenuto nella famiglia adesso dobbiamo trovargli un nome per questo scogliettolino o scogliettolina fatemelo sapere qua sotto nei commenti un bel nome per questo scogliettolino non ti preoccupare perché se è una decorazione per tutto l'anno non solo per l'autunno non finirà in uno scatolone finito l'autunno non lo so io quando una volta che ho sulle decorazioni a parte vabbè quelle palesemente natalizie poi tutto il resto lo tengo lo tengo benvenuto in questa casa di in mezzo al caos io sono un'accumulatrice ok perciò non ti preoccupare non finirai mai in uno scatolone sarai in mezzo al piante in mezzo a tutto il caos lo dice una che ha lì sulla mensolina della cucina che mi sta guardando il coniglietto della lint di pasqua perché non mi regalate i coniglietti della lint di pasqua perché io non riesco a mangiarli non riesco a spaccarli per mangiarli quindi siamo al fine agosto e c'è ancora il coniglietto di pasqua lì che mi guarda almeno questo non è di cioccolato e non si squaglia ok benissimo fatemi sapere nei commenti un bel nome per questo bello scogliettolino poi andiamo avanti e abbiamo le ultime cose prima di passare appunto alle cose da mangiare ho preso due paia di orecchini perché non so neanche io perché li ho presi ok incominciamo bene allora probabilmente mi serve la forbice per aprire questi orecchini e arrivo dicevo non so neanche io perché ho comprato questi orecchini perché io fondamentalmente uso quasi sempre l'argento come gioielli ok a parte qua che ho l'ottone però per il resto uso l'argento questi gioiellini sono in stainless steel quindi acciaio placcati oro placcati oro 18 carati e hanno però delle pietre hanno delle pietre no pensavo fossero fatti a cerchietto invece no ecco perché io li avevo presi vedete perché sono fatti sembrano fatti a cerchietto se voi li vedete così però dietro vedete che hanno la farfallina e io ho gravi problemi con la farfallina riesco a mettere solamente orecchini a cerchietto perché la farfallina mi fa il appunto mi fa l'irritazione e mi si infiamma mi viene il pus e tutto quanto e sono tutti e due cavoli adesso io come faccio li dovrò regalare probabilmente sono tutte e due con le farfalline cioè a vederli così ecco vedete perché dovete guardare questi video così appunto vi rendete conto delle cose e non comprate cose che poi non utilizzate ok perché se le vedete così da davanti io pensavo fossero a cerchietto invece assolutamente no e sono con vabbè sono con la sodalite e con la una pietra che io non ho mai sentito sodalite e l'epidolite l'epidolite questa è la l'epidolite ma guardate che bel colore che ha è un po' tra il grigio adesso in camera ovviamente non rende giustizia è un po' tra il grigio e il violetto e il lilla mentre la sodalite la vediamo qua è blu è blu con delle venature bianche ok e raga io adesso non lo so dovrò trovare qualcuno a cui regalargli questi orecchini o se no appunto tenerli proprio per un'occasione metterli e toglierli ma voi lo sapete che io quando mi metto i gioielli li metto e non li tolgo più fino che fino che non mi stufo ok quindi l'epidolite ok ci sono scritte qua sotto le proprietà peace independence balance quindi pace indipendenza e balance bilanciamento equilibrio bilanciamento equilibrio ne abbiamo bisogno di tutto sì di pace sì di indipendenza sì anche se sono abbastanza indipendente equilibrio quello proprio assolutamente sì mentre la sodalite ok abbiamo healing meditation e protection quindi healing guarigione meditazione protezione tutte cose di cui abbiamo bisogno però purtroppo mi hanno ingannato mi hanno ingannato se fossero stati cerchietto sarebbero stati perfetti per le mie esigenze va bene allora visto che abbiamo beccato la cantonata la delusione adesso ci ci tiriamo su con un po' di snecchini e un po' di cose da mangiare allora innanzitutto ho ricomprato questi perché ho visto che ce n'erano ancora quindi ho fatto la scorta ce n'è ancora un pacchetto dall'altra volta che ero andata ad action ma quando li trovo faccio scorte tanto sto sudando raga cioè è venuto il temporale stamattina ha rinfrescato però stare con le porte chiuse senza la corrente d'aria si suda però sono glowy ok sono luminosissima illuminante no afa va bene questi sono la droga questi sono la droga ok e quindi ogni volta che vado che li trovo ne devo prendere almeno un pacchetto per fare scorta sto parlando appunto di questi kraxel che sono pezzettini di pretzel speziati alla mostarda al miele e cipolla li ho fatti assaggiare anche dei miei amici e hanno detto non dobbiamo andare da action perché cioè questi sono veramente la droga e mi avete fatto sapere che li avete assaggiati anche voi qualcuno li ha assaggiati e concorda con me che sono la droga poi per un video prossimo siccome appunto vi ho detto che stanno già mettendo le cose di Halloween e le cose autunnali per il mukbang di Halloween spoilerini ho preso questi mister brownie quindi sono tortine sono brownie di Halloween ok e lo mangerò penso come dolcetto nel mukbang di Halloween manca ancora due mesi praticamente più di due mesi però io sono sicura che se vado là ad ottobre prima del mukbang questi qua non li trovo più perché se avete intenzione di fare qualcosa per Halloween in decorazioni comprare le cose compratele quando le trovate perché se dite no aspetto vado sotto data non c'è più niente raga perché adesso tra 15 giorni ve lo dico io che cominceranno a mettere le cose di Natale e non trovate più niente sotto data quindi io ho preso la palla al balzo ho visto che la scadenza è lunga perché la scadenza è 13 aprile 2025 quindi sono merendine confezionate sono tortine confezionate ho detto un paio di mesi mi stanno qua un mese e mezzo mi stanno qua chiuse e le aprirò ad Halloween per il mukbang di Halloween perché ho detto ora o mai più perché se no non le trovo più dopo si troverà tutte le cose di Natale ad ottobre ok perciò ci dobbiamo portare avanti raga sempre poi per un prossimo video ho comprato tutte queste cose quando torniamo dal mare abbiamo un sacco di roba da mangiare e da assaggiare ok benissimo non ci possiamo mettere a dieta neanche dopo il mare volevo fare un altro video con appunto gli snack e le cose dal mondo e ho trovato appunto questi noodles ancora coreani sono coreani boh probabilmente ok e sono super hot e spicy vedete che hanno la confezione strarossa e si chiamano super hot e spicy c'è un manzo qua arrabbiatissimo c'è un manzo piccante arrabbiatissimo c'erano anche nel pacchetto nero ma erano al pollo io preferisco il manzo non è il brodo di pollo sinceramente preferisco il brodo di carnazza ok quindi li ho presi appunto nella versione manzo quelli al pollo hanno la confezione nera non sono quelli originali bull duck mi pare che si chiamino che me l'avete ha anche chiesto se si prova i bull duck quelli spicy eccetera non li ho trovati dovrei comprarli su internet però ho trovato questi e li assaggeremo vediamo se sono super hot e spicy da una amante del peperoncino come me li proveremo quando torno dal mare organizziamo anche questa cosa di assaggiare i noodles piccanti ok poi sempre con il piccante appunto abbiamo questo mix di anacardi e crackerini di riso a quanto pare vedete che sono un po' anche loro asiatici non so perché c'era anche quello giapponese tipo mix giapponese spicy quindi comunque tutta roba asiatica perché comunque c'è scritto anche qua non so che lingua sia ok snacks of the world infatti dicono non so se c'è scritto dietro qualcosa non c'è scritto niente dice mix di salatini di riso piccanti e arachidi ricoperte al gusto siraccia ok quindi non so se voi lo sapete da dove vengono queste cose comunque è roba asiatica sempre penso coreana o giapponese eccetera e sono appunto questo mix di salatini per fare l'antipasto intanto che aspettiamo i noodles che si cuociono mi sto dando un sacco di spoiler quindi se siete interessati poi a questi video ovviamente sempre di più iscrivetevi al canale ok perché li faremo quindi intanto che aspettiamo i noodles che si fanno assaggeremo appunto questo antipastino questo aperitivo di snack alla siraccia io la salsa siraccia in realtà non l'ho mai assaggiata non l'ho mai assaggiata però l'ho sempre vista nei video o americani o appunto esteri mi ispira molto perché mi piace il piccante e quindi non vedo l'ora di assaggiare anche questi vediamo appunto quanto saranno piccanti poi come dolcetto ho trovato questi sempre queste tortine che in realtà a vederle così mi sembrano i twinkies americani ok non sono ovviamente quelli lì originali si chiamano cravings sponges sponges e credo che siano un po' tipo i nostri plum cake ok con il ripieno di crema al latte credo appunto infatti dicono golden sponge cake quindi torta di spugna a me mi vengono in mente i plum cake che sono così un po' spugnosi però i plum cake sono lo yogurt questi vediamo di cosa sapranno e quindi sponge cake with cream flavored filling con ripieno di crema e sono 5 e questo ce lo mangeremo appunto farò sempre il video assaggio cibo di action dal mondo ok quindi questi credo che siano tipo sono inglesi questi si sono inglesi perché dietro qua c'è scritto appunto united kingdom north yorkshire united kingdom però a me sembravano appunto i twinkies quelli americani perché anche quelli li ho sempre visti nei video i twinkies e mi sarebbe sempre piaciuto provarli non li ho mai trovati qua in italia poi io di comprare le robe su internet così mi passa sempre cioè mi scordo sempre e quindi assaggiamo questi che sono inglesi ma fa niente li assaggiamo e vediamo come sono se qualcuno li conosce se qualcuno conosce queste cose qua o li avete già assaggiati cibo di action fatemelo sapere appunto nei commenti benissimo noi abbiamo finito con questo haul mega haul di action appunto io andrò penso che passerò in settimana perché comunque manca ancora un po' di tempo prima che io vado al mare avevo detto mi pre-registro prima le cose per tenermi un po' di giorni per fare le cose prima di andare al mare fare la valigia fare i peli da tutte le parti del corpo le unghie delle mani le unghie dei piedi ho fatto qualcosa assolutamente no mi ridurrò sempre all'ultimo secondo fare le cose come al solito sì e quindi raga sono irrecuperabile va bene adesso penso proprio a parte se McDonald's non fa uscire le chicken creation nuove prima che io parta per il mare se no se non vedete altri video prima dei vlog del mare ci vediamo al mare questa volta veramente sul serio ok va bene quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto sentiamoci qua sotto nei commenti e lasciatemi appunto un like di supporto io vi bacio e noi penso spero che ci vediamo al mare a questo punto ciao ciao